Ma buon salve a tutti Oggi siamo con una nuova reaction particolare Perché come sapete ogni anno escono nuovi videogiochi E sappiamo benissimo che nei videogiochi ci sono tantissimi glitch e bug Quindi quello che andremo a vedere quest'oggi È una compilation di glitch e bug divertenti Se volete possiamo fare anche la versione FIFA 23 Perché ho visto dei bug assurdi Vabbè, come ogni anno eh Non è che cambia di così tanto eh Ogni anno c'è un bug diverso su quel gioco Prima di iniziare io vi ricordo di lasciare un bellissimo like Di iscriversi al canale se ancora non l'avete fatto E di seguirmi su tutti i social che vi lascio il tag qui Mi raccomando, seguitemi, seguitemi Direi di iniziare con una bellissima compilation Ok Sembra tutto normale È una madonna che No? Come cavolo cammina? Ma che fa limbo? Non ho capito Ok, un tizio dentro un cavallo Giusto? Mi sembra più che è giusto Sembrava strano Ma poi che cacchio di bug sono questi? Glitch? Che cavolo so? Ma come cavolo cammina? Ma tutto ok signora, ragazza Tutto ok È tutto ok Io immagino proprio il giocatore che gioca a sto gioco E si vede sto bug Tipo dice Cosa ho appena acquistato La versione più scrausa del videogioco A me non è così mai capitato di trovare dei glitch del genere Tutto perfetto Ok Mo? Non sapevo che Spider-Man passasse proprio attraverso il muro E scompare Ehm, mi scus- Ma che- Ma cosa cavolo è successo? Sembra tipo la versione con le mod Ma in realtà non c'è nessuna mod qua C'è il tizio volato così a caso Ehm, quest'altro che si gliccia All'interno della nave Proprio attraverso Invece di camminare Fa a destra e a sinistra Ma, ma Vabbè Oddio, oddio la vedo brutta Ma che teletrasporto Che è successo? Portal è diventato sto gioco Ma Vabbè Sarà la guardia quella Sarà qualcuno Ok Ok Vabbè Ma che- Ma che cazzo? Che succede tutto in ritardo? C'è un delay Bene Possiamo continuare così all'infinito Guarda Nessuno acchiappa nessuno Dicevo Nessuno acchiappa nessuno invece Vabbè Cyberpunk è il gioco Per eccellenza Dei bug Ecco Tipo questo Del tipo che Passa attraverso le cose Non sapevo Guarda La fisica funziona bene Su sti giochi Ma batman Minchia Ma Ma dove è uscito? Perché? Ma Sicuramente c'era un problema di connessione Ecco Eh Perché stanno girando È normale questo? Ma che cavolo sta succedendo dietro? Non lo so Che cavolo sta succedendo? Come cavolo sale le scale? Vabbè L'importante è che riesce a salire Ma Ah vabbè Vai Questo è top bug Per eccellenza Il tizio che si bug Sullo sportello dell'auto Ma che cavolo Ma perché succedono Sono queste cose? In giochi che dovrebbero essere fatti bene Precisi E invece no Ciao No Mi dissocio dal saluto Mi dissocio da come si è Buggata la tizia Ci sembrano delle statue Delle statue che camminano Non ho mai visto un gioco del genere Ma che lì Vabbè Questa si è buggata direttamente Non riesce nemmeno a passare Tipo come gli anziani con i tornelli Non riesce a passare È inutile È tipo gli NPC Quando si buggano Che vanno a sbattere contro il muro Ah E scompare Questo invece Non lo so Si arrampica sul nulla Dove si appende il tipo? C'è nulla Ok Ah bello sto bug Gente che attraversa altra gente E piatti che non esistono Mi ricordo un altro personaggio Questa cosa Ok Gente che si picchia Picchiando l'aria Mi sembra giusto Vai Che bei pugni Guardali Manco in WWE Fanno ste cose Vai Pure le testate Perché cammina tutta storta? Ok È normale che la gente vola Che i personaggi volano In sti videogiochi È normale Ma Ma come? Ma come? Ma questo si porta La porta appresso Bellissimo eh Come trasportare una porta Chiamate lui E mi raccomando Te lo trasporta Preciso Bello sto bug Ma? No no È sparita la faccia Tipo Mi ricorda tipo Le prime scene fatte su Shrek Un fail compilation Ecco dove c'erano Tutte ste robe Di animazione Dove sparivano facce Sparivano cose La stessa cosa Guarda Mamma Mie videogiochi Ci regalano sempre Delle perle E ho detto tutto Quindi Immaginate su fifa I bug che ci sono Mamma mia All'ordine del giorno Anche se Guarda caso Succede soltanto A determinate persone A determinati videogiocatori E il resto Va tutto bene Alla maggior parte Della gente Che ci gioca Queste cose sono così rare Ci devi fare una reaction Prima o poi Le devi mettere In una compilation Cioè Devono essere ricordate Nella storia Come i miglior bug I miglior glitch Di sempre Soprattutto quello Dove la gente vola Così a random No è un appello a chi produce videogiochi Quando lo dovete fare Controllate bene prima Non è che poi pubblichiamo un gioco Pieno di glitch Pieno di bug Perché poi non è bello Giocare a sti giochi Con sti bug Però sono divertenti Che dire signori Io direi che per oggi Può bastare qua Se vi è piaciuto il video Lasciate un like Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Seguitemi su tutti i social Che vi lascio I link E il tag Qui Mi raccomando Seguitemi E se volete Un altro video Di questo genere Sfondiamo quel tasto like Mi raccomando Detto ciò Noi ci vediamo Alla prossima Glicciata Glicciata